E fratelli di Lacon Creek, voglio leggervi questo pezzo, secondo me è molto buono, la semantica dell'immane disagio moderno esemplificata dalle architipiche vite delle rockstar scolpite nella faccia di marmo di Clint Eastwood e in quella da schiaffi di John Belushi. Una donna magnifica mi ferma per strada. Ciao, come ti chiami? Stasera verresti a cena con me? Sì, ti dico domani, ok? Sì, questo è uno dei miei scritti, davvero citato così, più seri e argomentati negli ultimi tempi, però al finale da scemo è più scemo, cioè quello che vi ho appena letto. Una volta Freud scrisse questa frase molto discutibile, il momento in cui un uomo si interroga su sincato, sui valori della vita, egli è malato, dato che oggettivamente non esiste nessuna delle due cose. Col porre questa domanda uno sta semplicemente ammettendo di avere una riserva di libido insoddisfatta provocata da qualcos'altro, da cosa può essere provocata la manganza di libido, scusi, una specie di fermentazione che ha condotto alla tristezza e alla depressione. Ma, frase alquanto opinabile, la bocciamo, come dice Alberto Sordi in Teoteri di Roma, senza, lui non dice senz'altro, senz'andro, 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 senz'andro bocciato, senz'andro bocciato, no, bocciamo questa cosa qua. Ma non condivido molto, da un analista introspettivo non mi sarei mai aspettato, d'altronde. Quello l'ha detto Freud, Freud era già morto da un pezzo quando uscì Blade Runner, comunque per certi versi vera, ehi tu donna, sei vera, verissima, cara, la sera è rosso di sera, bel tempo, fra noi si spera, ah ah, beh, so che vi faccio divertire con le mie smodate imitazioni falotiche dei personaggi di Mel Brooks, avete visto l'inizio di Vivi Ita da Cane? Sì, ma non possiamo, e allora, e allora, e allora, e di John Belushi, e a me piace, perché ritengo sia Mel che John dei geni, John dei geni assoluti. Quindi il mio processo di identificazione, piacevole, empatico, un sedere simbiotico, fallottico, godibile, goduto, bevetelo, donne, bevetelo. D'altronde, nonostante i pochissimi film da lui interpretati, come si può confutare la fresca, lapidare, irrimovibilmente schietta, secondo cui John Belushi sia stato un genio, indiscutibile, poi è morto all'età di Cristo, 33 anni, nella Roulotte, che non è la roulette russa, anche se c'era De Niro in quella roulotte, lo sapete, avete letto la sua biografia, c'era anche Robbie Williams, se non sbaglio, sì, sì, è una frase schietta, forse oltre alla droga, quindi oltre all'overdose, e poi parleremo di rock stars, alla droga, l'overdose, Jim Morrison, ecco, dicevo, oltre a questo, frasi schietta, forse beveva anche troppe fiaschette. Quindi, questo l'ho già detto, basterebbe la scena di The Blues Brothers, in cui perso in un sotterraneo assieme a Dana Croyd, tenta di sfuggire la caccia della polizia, ma viene fermata a sorpresa la sua vendicativa ex, interpretata da Carrie Fish. Lei è convintissima di volerlo ammazzare, poiché lui l'ha fatta, eh, 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 sì, perché lui l'ha abbandonata a un misero, lugubre, amaro destino, da donna inconsolabile. Infatti, Carrie Fisher, secondo me, vabbè, mi spiace che sia morta e sia malata, appunto, di depressione, Carrie Fisher, ma avrebbe dovuto buttarla a ridere come l'ha sconsolata? L'ha sconsolata? Eh? Mi ha lasciato, mi ha lasciato proprio il giorno delle nozze, come devo fare, mollandola, ma appunto, misteriosamente, proprio il giorno delle concordate nozze, al che lui, passo felpato, le si avvicina dolcemente, le si inginocchia, implorandole perdono e le recita, fingendosi colpevolmente disperato, altresì innocentemente mortificato, questo pezzo, un pezzo storico. Non ti ho tradito, dico sul serio, ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria, non mi aveva portato il tight. C'era, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, la giuro su Dio! Lei è già crollata, come si suol dire? Si è sciolta, eh sì. Ancora però ha qualche dubbio e il suo sguardo è leggermente arcinio, al che John le pone uno sguardo infantile, con tanto di velocissima alzata sopraccigliare, e la stende. Insomma, in meno di 30 secondi, John è riuscito incredibilmente a esprimere una gamma emotiva, così sfaccettata, da premio Oscar, soltanto con la sua imbattibile faccia da schiaffi impagabile. Super genius mai visto. Quindi, io volontariamente mi do il demenziale, perché come ci insegnano i grandi comici, dietro anche la più spensierata, spontanea, vivandata, sbandierata, ilarità, esagerata, ben vero di profonda, ingurabile, malingoni e benigni. I pagliacci, infatti, hanno il trucco, il corrimmel che sgocciola come se fosse una lacrima stampigliata nella vario pinta, caleidoscopica, bastità, impescutabile, loro insondabili emozioni vulcaniche, tatuate nell'immobilità di un'espressione impassibile. Da Buster Keaton, vi rimando alle Esegesi su Buster Keaton di Carmelo Bene. Questa è una società, insomma, che non sai come prendere. Se la prendi in giro, così come fa Belushi con la compianta Fischer, pigli per il culo forse solamente la tua vigliaccheria, non sai la codardia, le bugie hanno le gambe corte, però questa se la dà a gambe elevate, non sai di conseguenza se accettarla con i suoi giochi crudeli, se buttarla in vacca, se alienartene, soffrendo però come un cane la tua mancanza di rapporti sociali, oppure se cede che poi uno, senza questa gente, questa socialità, frivola, sta pure bene, idioti, gli scrivono, ma sei solo come un cane, ma curati, ma curati tu, ma curati tu, essere profilato, tu sei un profilattico, se la profilassi vivente, pensi sempre a quello, ma se sei proprio, sei proprio una schifezza, diciamoci, oppure se cedere arrendevolmente alle lusinghe del folle carnaio generale e diventare il prodotto robotico di un mondo basato sull'animalità più meschina, vi rimando al film A History of Violence, tribale e triviale, mondo rizzo, no, retto dal concetto di Eros più mortifero. In questo senso, in vero di tutto il mio sixth sense, non è solo il film di Shyamalan, credo, uè, scemo, credo che un uomo e una donna si spengano se sono carenti di Eros. Ecco, voglio chiuderla qui perché non ho voglia di recitare, di continuare, vi rimando al mio pezzo, lo trovate online, sul mio sito, finché sarò attivo, parlo di Kurt Cobain, parlo delle cubane, dei sigari cubani, Jim Morrison, di Jim Morrison ho già accennato, parlo di Elvis, Elvis the pelvis, parlo di Mick Jagger, sympathy for the devil, io sono il diavolo, sono un angelo, sono un angelo, voi fate che rubini, ma non... voi pensate sempre a come rubare per riparare i rubinetti? Sì, 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 siete uomini da gabinetto, insomma, delle merde. Detto questo vi lascio, adesso ho altro da fare, c'è un tizio che vuole incontrarmi, no, non incontrerò lui, incontrerò quest'altra tizia che mi ha appena incontrata su Facebook, credo sia molto più interessante, diciamo, come donna, no? Ecco. C'è un tizio che mi ha appena incontrata su Facebook,